In questo momento, sul quarto piano del defizio comunale di Livorno, i disoccupati e i lavoratori della TRV stanno facendo una manifestazione perché sono molto preoccupati della loro situazione lavorativa, per cui anche i sussidi di disoccupazione che ormai si sono esauriti il 31 di dicembre hanno delle difficoltà, sembra che non ci sia una capacità di partecollare di accordi di programma che erano stati presi e stanno chiedendo da stamani, essendo in protesta sul testo del quarto piano del comune di Livorno, chiedono che venga rispettato l'accordo di programma tra regione e zone di crisi complessa e sarebbero, sembrerebbe, disponibili all'interno per la protesta che la giunta sarà presente con il suo funzionario giovedì prossimo perché è riconvocato in tavolo per questo accordo di programma. Ho visto che ci sono un paio anche di mozioni sulla PRU, mi sembra una proposta dalla Lega, sono alta del PD ma non sono sicuro perché la stavo cercando come numero ma non l'ho trovata e quindi volendo si potrebbe anche accogliere questa richiesta dei disoccupati e dei lavoratori, magari anticipando le due emozioni, non so, chiedo a voi come fare perché se si risponde anche subito scendono dal tetto che è anche una situazione di pericolo da un punto di vista di incolumità personale. Grazie a tutti.